non avevo visto prima donna, che cos'è? è uscito il nome? non è datato, aspetta andiamo a crema che cos'è? sono no te no? che cos'è? ma è, non mi ha messo via dei paesi a biglietti che leggera assicurata a moglie è assicurata a biglietti andiamo avanti a lo più scantolato mai è vuoto cacchetta è, è, è soldadoni mi sono perfetto lo quei figliatoni perfetto, in attimo soldadoni, chissà, mattà, patente mazze 24 Vado a dire che la cifra è la tombola, che sarà il primo consiglio a curare. Il culo ti ha fatto una cosa, è vero! E questo è il caffano d'alga d'accordo? 26! Ma io, per casa la crisi e la domica non mi sanno per a nulla! Hai c'è capito, non mi sanno per aca? No, ma il primo è il primo. perciò crede perciò crede c'ho dato il numero è terminato il numero e non esce 26 uno è scritto ma c'è una sera che si compra e non vede scritto non vede scritto ma non vede scritto ma non vede scritto non vede scritto e non vede scritto e non vede scritto e ha fatto tanto in quaderno a poco e non vede scritto e ha visto uno scartolare o Maripoli e San Antonio ma rivedencio ok per altri scritti non l'avevo dimenticato si ferma la paterna ed esce una bella mano la mano nera di Don Luigi numero 5 una bella mano una bella mano Zanzara se non aprisci a Nazareth ti metto posto e babbonata la coppa di Sparelli e ti faccio il culo il 16 il culo di Zanzara è una volta che non ce l'ha fatta per io questa sicuramente è una volta che ha avvolato Ogul Ogul e Luigi Ogul e Luigi e Ababush è un problema di variate persone Vicesi Waller il genico Ababush guarda al completo se lo metti a trattore un uomo allora Ababush arriva nei quadri 24 24 ce ne sono parecchie qua ce ne sono parecchie una salita e guarda e guarda a voi per essere una colpa che farsi guarda agli appare l'uomo in merda ragazzi 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 c'è 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 64 c'è bambini c'è c'è ma dietro ospitale non paga nudi, 73 chiaramente, più lì ma dietro ospitale, 73, la cinquina ancora non arriva, dietro ospitale questo c'era, ma dov'è occupa, trova una bella fontana, secondo noi vicino a fontana, 76, 76, 76, il tuo primo rumore, però, adondo è sicuro a 2, 76, e vicino a sta fontana non è Tamarone, 8, Amarone, cinquina, cinquina, otto è mio, cinquina, la porca l'anzana, quando io vorrei controllo, controllo, a lui, aspetta, c'è il trucco, c'è il trucco, attenzione, Ocusana, Ocusana, come l'hai fatta sta cinquina? Allora, ma non è che non hai segnato qualche numero, Ocusana deve essere tutti sulla stessa linea, va bene, abbiamo faccia all'armi, comunque è prossima, è prossima, è prossima, è prossima, il prossimo numero, Ocusana farà una bella cinquina, andiamo avanti, non è uscita la cinquina, si gioca ancora per la cinquina, andiamo avanti, a non fare la futana, la retta Amarone, vicino alla futana, la retta Amarone, è pure una bella capa, 34, si fa la capa Amarone, a capa Amarone, 34, a capa Amarone, a ruoto Panamano, a capa Amarone, 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 74, una cosa a giurito che ha fatto due numeri, incoraggiamento, in cima della loro santa, giurito, nella rotta, nella rotta, nella rotta ci siamo, padre e creatura, 29, numero importante, a capa Amarone, 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 a capa Am e questo è una giuria tre persone con un numero e non è stato una bella serata di musica cinquantacin a chi sei con un numero? chi è prossimo alla cinquina? alzi la mano si? non preoccupa l'hanno truccata tu l'hai fatta a posto e andiamo avanti musica cinquantacinque quarantanove o pizze i carne in doppia varina insani quarantanove o pizze i carne capore un numero capore un po' aaaah caso ci sono detto un po' però c'era maggico sessanta nuova sessanta nuova sotto e in coppo Pizzicare il Sottengoppo E te Chi è? E Ritare il palambo Vabbè è la prossima volta che giochiamo Un Sottengoppo Un Sottengoppo con qui Un Sottengoppo con un caffè 42 Non ti hai mai messo un Sottengoppo con un caffè Oh oh Cattolino La 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 Il tuo caffè di una mamma Ti nervosisce 42 42 Il caffè è rosa un piatto in da case 84 E qui si piglia il caffè in da case 84 84 84 84 Rola a case E Pazzata In da case Speretto Osang Risciotto 18 Osang Il 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 18 Che Il 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 con la cinguina e sull'etra è immazzata, 3 e 8, giustamente, per farci il sangue ci vanno immazzata, 3 e 8, non è il numero 2, Rosigny cosa serve? Quindi c'è un tocco, manco per farci il numero, non ti preoccupare, è immazzata, ma c'era una musica, ci vanno a scoprire, è andata in testa, dicevamo, stanno aspettando, è immazzata, sull'etra l'arrivo, popane, panie, che ha scritto panie, per il panie 50, ha scritto io, devo dire ogni cosa abita in merito, 50, il pane, 50, se è quaderno è moda di arrivare la cinguina, che era la Rans, oh, popane gli ha i cattari, 89, ha vecchio, come vi spiega sto vino? 89, ha vecchio, giustamente, 3 e pin, 59, 59, ma forse sulle spine, allora, quanti di voi aspettano la cinguina?